ma quello è trans o sbaglio? Goku dunque se n'è andato e il grande torneo mondiale di arti marziali prosegue senza di due la piccola Pan dopo aver vinto il primo incontro si distingue ancora una volta riuscendo a sconfiggere il povero zio Goten il pubblico è invisibilio nessuno si sarebbe mai aspettato che una bambina di soli quattro anni potesse avere la meglio contro avversari di quel calibro Figliono, tu diventerai invincibile! Sì! No, no, così non va bene cerchi di usare una voce un po' più bassa Sì! Un'altra volta tu diventerai invincibile! Sì! E così il leggendario guerriero Saiyan che ha sempre cercato di migliorarsi e di superare i propri limiti per difendere il pianeta e l'intero universo si prepara a compiere una nuova missione Torna presto a casa, valoroso Goku la tua famiglia e i tuoi compagni hanno ancora bisogno di te Grazie a tutti!